A tre giorni dallo scivolone in casa contro la Mastria Catanzaro, la scandone del nuovo ciclo Robustelli torna in campo al palacalafiore di Reggio Calabria per la seconda giornata della fase ad orologio con palla 2 alle ore 18. Per i lupi del basket si tratta dell'ennesima chiamata salvezza contro la compagina di coach Domenico Bolignano che precede a velione in classifica con 8 punti e che reduce dallo stop in casa della GECO Sant'Antimo per 80-75. Nonostante la sconfitta, la Viola nell'ultimo incontro in terra campana ha portato a referto 5 cestisti in doppia cifra e tutti quelli più temibili da tenere d'occhio il talento di Enrico Maria Gobbato, una guardia giovane classe 98 che senza erata può essere letale da oltre l'arco come lo è stato Cucco nella prima giornata. Gli altri punti di forza sono il play Fortunato Barrile, l'ala Salvatore Genovese, il centro Prunotto e l'altro play Roveda. L'ultimo precedente tra lupi e Viola è datato 2006 in Serie A, era il 4 maggio e la squadra irpina allenata da Andrea Capobianco vinse al pala Callafiore con il risultato di 73-99. Che sia questo per Capitano Ricci e compagni un segnale di buon auspicio per ritornare finalmente alla vittoria.